L'Exus ha fatto dell'eleganza e dei veicoli ibridi un must per la sua linea di automobili. Qui al Salone di Ginevra presenta il modello CT200H che noi vediamo in questo servizio per Electric Motor New. Tutto è cominciato grazie ad un'idea innovativa. Dall'ambizione Lexus di creare un'automobile compatta premium in grado di soddisfare le aspettative di una nuova e più giovane generazione di clienti. Un'auto full hybrid dal design distintivo innovativo ma anche rispettosa dell'ambiente. Ed ecco il risultato, la nuova CT200H, la prima auto full hybrid nel segmento delle compatte premium. Nella parte anteriore lo stile deciso e le sue linee marcate trasmettono robustezza e stabilità. La griglia integrata all'interno del paraurti permette di distinguere il consueto motivo a forma di freccia distintivo della filosofia stilistica L-FINES che contraddistingue tutte le automobili Lexus. Sia la griglia superiore che quella inferiore si uniscono formando un'eccezionale forma dall'aspetto affusolato che combina una vivace semplicità e un elegante dinamismo. I gruppi ottici anteriori sono posizionati più in alto rispetto alla griglia sottolineando ulteriormente l'aspetto distintivo della nuova CT200H. Nella parte posteriore il design degli archi ruota enfatizza ulteriormente la disposizione dei fari. Questi ultimi si caratterizzano per il rinomato motivo a forma di L e il paraurti posteriore rafforza la percezione di stabilità e dinamismo. Osservando la nuova CT200H di profilo, l'accentuata inclinazione del parabrezza e l'esclusiva forma dei cristalli si combinano creando una silhouette estremamente distintiva. La colorazione a doppia tonalità dei retrovisori esterni rende maggiormente dinamico l'aspetto del veicolo. Il tetto più lungo e la maggiore ampiezza delle linee e delle portiere determinano una forma dell'abitacolo ancora più affusolata. L'impressione di efficienza aerodinamica viene confermata anche dai dati tecnici. Il suo coefficiente di resistenza aerodinamica è solo di 0,28 CX. Il rumore dovuto al vento è stato ridotto al minimo e le sue doti di stabilità sono state ottimizzate ottenendo un'elevata efficienza dei consumi. L'abitacolo è estremamente silenzioso e elegante e spazioso. Ogni singolo aspetto della nuova CT200H dimostra una totale attenzione al dettaglio. Non esiste un'altra auto nel segmento in grado di offrire lo stesso livello di qualità e comfort della CT200H. Per non parlare del lusso degli interni, in cui gli elementi creati dai maestri artigiani, le finiture metalliche e i materiali soft touch sottolinano la qualità premium del veicolo. Il cruscotto è diviso in due zone, una display zone superiore che si combina in modo armonico con una operation zone inferiore. Questa struttura rispecchia le caratteristiche dell'abitacolo della nuova CT200H, un ambiente spazioso ed elegante e allo stesso tempo molto accogliente. Il design ergonomico delle componenti permette di ottenere uno spazio per i passeggeri in linea con la media del segmento e una capacità di stivaggio di 375 litri estendibile fino a 985 con il semplice ripiegamento dei sedili. Con un'ampia scelta dei colori, i clienti potranno personalizzare la propria CT200H facendola diventare un'auto unica. Ben due tonalità esterne sono state create esclusivamente per questa nuova automobile. Anche per gli interni si potrà scegliere tra tre alternative in pelle e tre finiture in tessuto, accompagnate da un'ulteriore scelta per gli inserti del cruscotto. Inoltre i clienti potranno scegliere tra cerchi in lega da 15, 16 o 17 pollici. Qualunque configurazione il cliente sceglierà, sarà sempre presente la percezione che la nuova CT200H reinterpreta in maniera moderna la filosofia Lexus, diventando un'auto unica all'interno del segmento delle compatte premium.